Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto su questo canale. Allora, oggi è sabato 8 agosto e sono le 20.32 e io vi sto facendo questo video quest'ora perché oggi finalmente posso parlarvi di una cosa che aspetto da una settimana e mezzo. Allora, cosa è successo? Partiamo dalle origini. Qualche tempo fa, circa tre settimane fa, mi è scritto uno scrittore su Instagram vi lascio qua sotto la mia pagina, chiedendomi se volevo leggere il suo libro per poi parlarne e io un po' ero titubante perché comunque non ho dei grandissimi numeri e non sapevo bene, non ho mai avuto una collaborazione prima d'ora. Ebbene, mi sono decisa, mi sono buttata e finalmente dopo una settimana e mezza che gli ho scritto che ho accettato questa mia primissima collaborazione, eccoci qua. Oggi ho risoluto il pacchetto, a dire la verità è arrivato giovedì, se non sbaglio, ma io ero al mare e adesso sono in montagna oggi ho fatto il trasbordo tra mare e montagna, infatti vi chiedo scusa sia per i capelli che per la faccia ma appunto sono appena arrivata dal mare e non avevo voglia, volevo assolutamente rendervi partecipi di questa novità quindi andremo a fare l'unboxing insieme di questa mia prima collaborazione. Allora, innanzitutto lo scrittore è Pablo Cerini e vediamo subito, ovviamente io so già di che libro si tratta, però tengo voi sulle spine. Sono contentissima ragazzi, contentissima, non potete capire. Satori Weekend Ebbene sì Allora, sono veramente, veramente contentissima di questo libro perché comunque insomma è la mia prima collaborazione e volevo rendervene partecipe Allora, questo video uscirà domani, che è domenica perché sono anche in ritardo sulla programmazione ma dettagli Allora, Satori Weekend di Pablo Cerini vi metto qui dietro la trama e anche un pochino la storia dell'autore Oltretutto questo libro ha vinto il premio I Murazzi nel 2019 quindi sono veramente, veramente super curiosa l'editore è Genesi Editrice e vi metterò anche adesso perché ha vinto il premio Sono super contenta ragazzi Allora, questa è la trama Questa qua è la copertina che secondo me è molto bella cioè, molto bella, merita Qui c'è una breve storia dell'autore e poi qua in fondo il perché ha vinto il premio Allora, questo libro appunto mi è stato inviato mi è stato chiesto se volevo leggerlo e se avrei voluto fare una recensione io sono contentissima ringrazio tantissimo, tantissimo Pablo Cerini per questa primissima opportunità che mi ha dato non vedo l'ora di leggerlo non è un libro lunghissimo ha 154 pagine l'impaginazione è fatta in questo modo spesso non vi faccio vedere l'impaginazione però forse dovrei rendervene più partecipe e niente ragazzi sono super 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 contenta quindi niente era solo un video per aggiornarvi di questa prima collaborazione per fare l'unboxing con voi nonostante le mie condizioni propose quindi io spero che voi siate felici tanto quanto me per questa prima collaborazione e io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao